Nell'appuntamento con Cilento Channel in diretta news, il sindaco di Agropoli Adamo Coppola ieri sera ha fornito una serie di aggiornamenti su varie questioni in città. Il sindaco ha parlato principalmente delle spiagge libere, questione su cui molti cittadini si stanno facendo delle domande, chiarendo in modo generale come saranno composte e come funzioneranno. Il nostro protocollo di accesso in sicurezza nelle spiagge libere lo presenterò domani al tavolo politico, ha dichiarato Coppola. Ci sono delibere già pronte per l'immediato. Dobbiamo garantire a tutti l'accesso. Dopo le valutazioni lo presenteremo, disegneremo sull'arenile dove poter montare l'ombrellone che dovrà essere prenotato sul sito del comune. Il personale attenderà a mare per verificare la febbre e accompagnerà gli ospiti verso l'ombrellone. Oltre il bagnino ci sarà anche chi controlla la sicurezza sulle spiagge. Nel nostro progetto c'è il limite di quattro persone per ogni ombrellone, ma attendiamo le misure certe del governo e della regione.